La parità in Europa è un obiettivo ancora da raggiungere? Sì, la parità in Europa è un obiettivo ancora da raggiungere. Chi ha raggiunto i risultati migliori si trova al nord del nostro continente, ma anche la Germania, la Francia sono riusciti a raggiungere i risultati migliori dei nostri. Purtroppo l'Italia è un fanalino di coda in questo senso. E al sud qual è la situazione? Al sud nel fare il monitoraggio della carta ci siamo accorti che vi è necessità di rilanciare l'idea non solo della parità ma dell'uguaglianza tra i generi in modo che donne e uomini possano rivolgersi ai lavori che fanno tutti indipendentemente dall'appartenenza di genere e dall'assegnazione di ruoli sociali. È un fatto culturale molto complesso. Ma la parità deve diventare un elemento culturale nella vita di tutti i giorni, sia nei diritti, nei doveri, nella fruizione dei servizi oltre che nel lavoro? Sì, io credo di sì che intanto la parità si gioca in famiglia e questa è la cosa più complicata da affermare soprattutto nella parte del sud d'Europa dove ancora il tentativo è di arginare la risorsa donna, il talento donna tenendo un profilo molto basso sulla utilizzazione sociale delle donne. Io penso che però le giovani donne a questo si stanno ribellando. Purtroppo la loro ribellione ha anche un risultato che per ora non è certo un risultato socialmente positivo e che è il fatto che nel gioco da affermare la propria personalità e doversi formare una famiglia le donne giovani scelgono di non formarsi una famiglia. E questa però è una responsabilità sociale che abbiamo tutti e che dobbiamo assolutamente superare.